Elena Barolo ha trascorso giorni pieni di apprensione e ansia sul social racconta il suo delicato intervento ha dovuto affrontare un'operazione chirurgica all'addome per l'ex velina ben 40 punti di sutura il 26 gennaio è andata all'ospedale san raffaele di milano per il ricovero mi sono risvegliata in camera da letto con 8 miomi uterini in meno svela la 41 n esordisce eccomi qui a raccontarvi la mia storia niente di grave perché c'è sempre chi sta peggio ma il 26 gennaio mi hanno ricoverato in ospedale si è trattato di un intervento programmato all'addome un po come kate middleton racconta Elena cercando di sdrammatizzare sull'accaduto e finita sotto i ferri a causa di alcuni miomi uterini detti anche fibromi sono tumori benigni che colpiscono l'apparato genitale femminile si formano a partire dalle cellule muscolari lisce e vanno ad alterare la struttura dell'apparato genitale dato che le cellule fibrose vanno men mano a sostituirsi a quelle muscolari mi sono risvegliata in camera da letto con 8 miomi uterini in meno che mi avevano formato una palla grande come un bimbo di 5 mesi nell'addome e un taglio di circa 10 centimetri in più confida Elena poi si fa vedere a casa con indosso la pancera che è obbligata a portare fino a quando i punti non le saranno tolti è stata dimessa morale della favola prendetela con filosofia perché c'è sempre chi sta peggio carpe diem domani si vedrà anche con 40 punti in più e la pancera sono cool sottolinea la barolo accanto a lei come sempre la mamma che non l'ha lasciata da sola un istante grazie a tutti grazie a tutti